Signori all'ascolto, buonasera, prendiamo la linea dallo studio centrale di Teleradio Pace, la trasmissione direttamente sua è dedicata all'agricoltura, alle normative a cui devono fare fronte i coltivatori e gli allevatori, alle difficoltà anche burocratiche che devono affrontare. Cercheremo di fare il punto questa sera con l'assessore all'agricoltura della Regione Liguria, Stefano Mai, che è ospite nei nostri studi. Benvenuto. Grazie. Intolliquiranno con lui gli altri ospiti che si trovano nello studio 2. Andiamo a vedere, a partire dalla destra dei nostri teleschermi, troviamo Paolo Corsiglia, vicepresidente della Coldiretti di Genova. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Poi abbiamo un tecnico, ovvero Vincenzo Territo, che è il vicepresidente dell'Ordine degli Agronomi di Genova. Buonasera. Buonasera, grazie. A seguire Giovanni Battista Raffo, consigliere della Cooperativa Agricola Lavagnina. Benvenuto, buonasera. Buonasera. Poi un imprenditore agricolo, Nicola Rollando, che è componente dell'Associazione Allevatori di Genova. Benvenuto, buonasera. Come sempre ci sarà la possibilità per il pubblico da casa di intervenire, ma abbiamo questa sera in collegamento in esterna un gruppo di piccoli allevatori che sono interessati alla trasmissione. Ci colleghiamo con Maurizio Garreffa. Siamo a Leivi. Abbiamo come rappresentanti gli agricoltori del Consorzio Agricolo Leivi Golfo del Tiguglio. E dove vi trovate esattamente? Il Golfo del Tiguglio è dove vi trovate esattamente? Buonasera Alberto, buonasera a tutti. Ci troviamo proprio qui a Leivi, nelle vicinanze della scuola, del territorio, con, come dicevi tu, un gruppo di rappresentanti di questa zona, un gruppo di agricoltori che si riuniscono, che si ritrovano anche sotto la forma del mercatino, quello che si svolge tra fine maggio e fine settembre nella zona di Rostio. E con loro quindi vedremo quali sono le problematiche che affrontano quotidianamente, come tu dicevi, e a questo proposito, proprio per entrare nel clima, farei dire brevemente alcune di queste, con Francesca Dondero, che è rappresentante dell'azienda agricola omonima. Quali sono le problematiche più gravi che dovete affrontare? Buonasera. Buonasera. Sicuramente troppa burocrazia in quanto aggravio di costi, in quanto perdita di tempo quando si deve intraprendere un progetto. tempi di risposta delle istituzioni che a volte sono veramente lunghi, una difficoltà di reperire le informazioni e una conformazione del territorio che non ci agevola assolutamente. Bene, grazie. Ne parleremo allora più tardi. A te Alberto. E allora, grazie per questa prima sintesi. L'assessore Stefano Mai è venuto per dare risposte, ma anche per ascoltare quali sono le difficoltà e le istanze che provengono dal territorio, anche perché ci risulta che in questi ultimi anni effettivamente molte aziende agricole hanno chiuso i battenti. La Liguria si sta impoverendo da questo punto di vista. Ahimè, purtroppo questo è vero. È un dato allarmante, ma non stupisce più di tanto. Complice sicuramente all'aumento della burocrazia, ma anche l'ingresso nel nostro paese di prodotti di minore qualità rispetto alla nostra, ma a prezzi nettamente inferiori. Sicuramente queste sono le cause principali. Allora, tra poco entreremo nel merito. Ricordiamo anche per il pubblico la possibilità in diretta lunedì sera di prendere contatto con i nostri centralini per rivolgere domande agli ospiti o per presentare considerazioni. Il numero telefonico è 0185 32 42 42. Per i messaggi troverete in sovrimpressione il numero che è 320 38 56 000. Ripetiamo per sms e whatsapp 320 38 56 000. E poi la posta elettronica all'indirizzo e-mail è direttamente su chiocciolalibero.it. Abbiamo sentito la principale voce che è subito emersa, quella della burocrazia, che è una malattia tipicamente italiana. Vorrei sentire allora dai nostri ospiti a Revi, ancora con Francesca D'Onero, magari a che cosa fate riferimento in particolar modo quando parlate della tenaglia della burocrazia? Quali sono gli aspetti effettivamente con i quali vi scontrate nell'attività? Eccoci Alberto, allora rivolgiamo subito alla domanda a Francesca. Beh, sicuramente quando si vuole intraprendere un progetto di qualsiasi tipo è veramente tanta la mole di documenti che devono essere presentati prima ancora di sapere se poi questo progetto può andare a buon fine o meno. E quindi questo c'è un po' un'incertezza anche dell'andare a buon fine del progetto e questo ci crea sicuramente un aggravio di costi perché magari tante volte dobbiamo comunque avere delle spese e perdita di tempo, comunque tempi lunghi. Per esempio? Per fare un esempio che magari vi capita? Beh, se volessimo anche aprire, adesso nello specifico, anche se si volesse ampliare l'attività per aprire, che ne so, un laboratorio polifunzionale nel nostro piccolo, comunque la burocrazia richiesta è veramente notevole. Adesso... E che cosa si può chiedere all'assessore Mai? Sicuramente uno snellimento, uno snellimento nei tempi, uno snellimento anche delle procedure. Maurizio, ancora una cosa, siccome abbiamo presentato gli ospiti a Leivi, però effettivamente adesso il discorso prenderà due binari differenti, nel senso che ci possono essere grandi aziende agricole che quindi anche sotto il profilo normativo devono fare fronte a determinate richieste precise, però poi c'è il discorso di piccole aziende, magari a conduzione familiare. Gli ospiti di Leivi si trovano più in questa seconda parte, no? Se vuoi presentare un attimo la situazione di queste aziende. E tutti queste aziende? Beh sì, sono piccole aziende che sono rappresentate così a livello proprio di titolare dalle persone che qui vedete, ad esempio abbiamo Luigi Orani della ditta, Luigi Orani qui di Leivi, Maria Antonietta Solari, abbiamo parlato con Francesca, abbiamo Serafino Oneto che è titolare della Conca degli Ulivi che ci sta ospitando proprio qui nel suo negozio, Valerio Sanguinetti invece dell'azienda Verderam qui del territorio di Leivi. Questa sera abbiamo anche un consigliere delegato all'agricoltura del comune di Leivi che è Andreino Canepa e che poi se vorrai ci racconterà anche com'è cambiata la situazione dell'agricoltura dal punto di vista anche normativo dagli anni 60 ad oggi, com'è cambiato e com'è peggiorato ecco il sistema. E sempre per sviscerare gli aspetti che maggiormente affliggono queste piccole aziende c'è qualche altro ospite che vuole già aggiungere qualche cosa? Allora iniziamo con Valerio Sanguinetti. Si parlava di burocrazia, facevamo anche degli esempi concreti. Per esempio nel suo caso quali sono le problematiche più importanti, più gravi che affrontate? Allora, tanto per cominciare un aspetto utile da chiarire potrebbe essere anche un uso sapiente dell'informatica che sappiamo che in questo momento è uno dei noti da lenti. C'è questo grande apparato della pubblica amministrazione che fa fatica, rende difficili le procedure sia a noi che credo anche agli intermediari. Ma ci sono grandissimi nomi che ci hanno insegnato che l'informatica ci rende le cose semplici, voglio dire. In questo caso invece nell'agricoltura le blocca le cose? In questo momento un pochino sì. In realtà gli strumenti ci sono sia per migliorarlo sia che no. Poi la mia deformazione professionale perché la mia azienda fa tutte e due le cose, come voglio dire, fa sia agricoltura sia informatica. Però questo è sicuramente un aspetto. Un altro è legato al fatto che la burocrazia costringe tante volte anche solo a duplicare i dati, a ridare le stesse informazioni. Cioè se uno compila, che ne so, faccio un'ipotesi una domanda 4.1 del piano di sviluppo rurale e la 6.1 si ritrova a dover duplicare lo stesso tipo di informazioni. Basterebbe avere una chiave primaria che è il codice fiscale e da quello abbiamo tutto e recuperiamo una grafica unica dell'azienda. Ma poi questo è inutile dirlo e ripetere tante volte la stessa cosa oltre ad essere un dispegno in termini di tempi e di costi è anche e soprattutto un rischio di errore formale ma quello è un esempio. Ma questo è uno solo degli esempi che ci sono. La burocrazia è un po' come i sistemi qualità nelle aziende. Volevo domandare una cosa, ecco se mi sentite, abbiamo Valerio Sanguinetti che è un giovane agricoltore ma a questo proposito, visto che si parla delle aziende che fanno fatica e che chiudono. Nel caso per esempio di Valerio Sanguinetti si può vivere di solo l'agricoltura o no? Cioè anche sotto il profilo economico effettivamente quali sono le cose che possono portare avanti un'attività? Beh, allora il mio sogno è sì di vivere di solo l'agricoltura ma credo che vadano invece molto premiate quelle realtà che riescono a mettere insieme più cose perché oggi soprattutto il nostro territorio quello ligure riesce a competere poco dal punto di vista della produttività diciamo così spicciola rispetto a chi ha altre grandi superfici e altre da coltivare mentre può dare moltissimo per chi riesca a combinare altri fattori come faccio un'ipotesi il turismo. Io credo che chi ha delle professionalità come ad esempio io ho fatto 20 anni di pura informatica quasi e adesso voglio avvicinare le due cose perché credo che informatica e agricoltura si possano aiutare perché tanta automazione tanto monitoraggio possono anche voler dire meno agrochimica fondamentalmente ma sono ancora poco verde e tanto RAM forse. L'aspetto che c'è da curare secondo me è un altro anche che comunque oltre ad avere un'attività via io ho anche una certa posizione economica io ho l'esempio in casa di mio padre che è andato in pensione alla teneretà ha chiuso l'azienda quando l'ha ceduta a me ha smesso di pagare i contributi 81 anni e ha una pensione che è inferiore al minimo di legge al minimo non di legge alla minima che potrebbe avere una qualunque altra persona che non avrebbe avuto fatto contributi che non ha mai versato contributi perché è andata in pensione per anzianità mi chiedo sono tante probabilmente non so se adesso le cose siano ancora così ma temo di sì io dico che da una parte pur che ci siano nonostante ci siano i requisiti stringenti in termini di tempo e di reddito diversificare l'attività agricola può essere una cosa interessante anche perché potrebbe portare ad avere più aziende sul territorio io credo che ci siano tante persone che vogliono fare agricoltura anche solo per qualità della vita che cambia nel senso che io so cosa vuol dire fare 10 12 20 ore un computer è molto diverso poter stare un po' nei campi e un po' al computer bene grazie per questi primi interventi allora rientriamo in studio diciamo però ci sono poi anche aziende più grandi c'è chi vive effettivamente di agricoltura chi vive questa professione come il caso di Nicola Rolando che vorrei fare intervenire Nicola Rolando tra l'altro è componente dell'associazione allevatori di Genova è un'associazione che conta in tutta la Liguria 366 aziende di queste 133 nella provincia di Genova poi ce ne sono 165 nella provincia di Savona e 34 ciascuna per le province di Imperia e di La Spezia il totale di capi controllato da questa associazione è di 6970 allora Nicola Rolando dal suo punto di vista sicuramente ci sarà lo scontro con la burocrazia quali sono le cose da segnalare? La burocrazia ha dei livelli di aggressività nei nostri confronti che è paradossale cioè noi abbiamo una quantità di libri da compilare tutti i giorni dal registro di campagna che dovremo compilare tutti i giorni a tutti i libri di stalla che ora vanno in parallelo formato scritto a formati informatici abbiamo tutti i registri dei medicinali abbiamo una quantità di registri che di registro dei mangimi registro dei fitofarmaci è una roba che uno la finisce la giornata 10 ore 12 quanto sono alla fine doveva passare un'altra a scrivere roba abbiamo circa una decina di corpi diciamo di polizia investiva e contraddittori tra di loro non si riescono a mettere d'accordo sulle normative sulle etichettature sulle analisi sugli standard per cui spesse volte sono contraddittori tra di loro che possono tutti i giorni farci passare delle giornate a subire questi tipi di controlli in realtà io credo che l'agricoltura in Liguria da un certo punto di vista non esiste più dal punto di vista della produzione voglio dire di reddito noi abbiamo subito nel giro di 20 anni una riduzione del 50% del terreno agricolo e altrettanto degli addetti abbiamo siamo poche migliaia chi fa attività diciamo principali entrando reddito dall'agricoltura abbiamo una quantità di burocrati che ci stanno intorno che decidono la nostra vita che se fossero intenzionati alla semplificazione dovrebbero permetterci di vivere come dei nababbi dovremmo tutti i giorni avere qualcuno che ci indica ci fa vivere bellamente in realtà ognuno di loro si aggrappa in maniera parassiteria su di noi per renderci la vita sempre più difficile per dare un senso al loro ruolo di esistenza se noi non ci siamo questi non potrebbero non potrebbero più fare niente ma la cosa pazzesca è che noi al di là del fatto che ci lamentiamo facciamo bene forse a lamentarci ma chi produce non ha problemi di vendita noi abbiamo la fortuna di avere sì un terreno difficile da coltivare ma abbiamo in caso un mercato che chi produce riesce a vendere con facilità i propri prodotti ad esempio nel mio caso io ho 2000 piante d'olivo produco tanto olio ho un centinaio di pecore produco 20.000 25.000 litri di latte di pecore all'anno non riesco dopo un mese che smetto di produrre per dare possibilità alle pecore di ripartire l'anno dopo nel giro di un mese non ho più un chilo di formaggio in casa quindi voglio dire il problema della burocrazia è che se non ci fossero non ci fosse addirittura l'assessorato che promettono che dicono ogni anno di lavorare per noi di migliorare in realtà meno ci sono meno ci fossero noi funzioneremo paradossalmente abbiamo a Vernazza 3 milioni di persone per dire che visitano le 5 terre un limone attesa sono 3 milioni di limoni che sarebbero 10 ettari di limoneto che potrebbe dare lavoro bellezza struttura al territorio in realtà nessuno alla politica questa roba non interessa cioè non c'è la volontà di farlo la volontà politica è quella che noi dobbiamo servire a mantenere un assessorato cioè se noi non ci fossimo l'assessore non ci potrebbe essere in realtà voglio dire io se non ci fossero lavorerei farei molto meglio perché invece di portare il mio agnello voglio dire hanno studiato un sistema per cui fate conto che abbiamo in provincia di Genova un migliaio di pecore la media delle aziende sul settore ovino è di 4-5 pecore ad azienda in realtà tutto questo prodotto è illegale è prodotto in maniera criminale perché non esiste una struttura che sia preposta alla macellazione aspetti Nicola che questo punto magari è da spiegare un pochino meglio lei sta dicendo che la burocrazia vi soffoca e ora tra poco sentiremo la risposta dell'assessore Mai adesso stava parlando faceva questo esempio relativamente proprio all'allevamento di animali di pecore lei stava dicendo che quante pecore ci sono in Liguria avevamo una stile io non so il dato delle pecore in Liguria non me la ricordo più però in provincia di Genova sono 1.000 quindi saranno 4-5 in 4 province saranno al massimo 4.000 le pecore facciamo conto che abbiamo in provincia di Genova macelliamo 11.000 cinghiali tutti gli anni tutti ogni anno 11.000 cinghiali non hanno problemi di smaltimento di rifiuti speciali invece il mio agnello deve partire a fare 100 km per poter avere la possibilità di essere macellato in regola e riportato sul mercato per un costo che se un agnello mi rende 80 euro ne spendo 200 per poter avere il mio prodotto vale a dire che se io non producesse e andassi alla coppa a comprare il mio prodotto farei un affare quindi l'agriturismo è uguale l'agriturismo è più convenienza a non produrre e andare alla grande distribuzione non è un caso cioè è una volontà politica perché abbiamo visto in questi anni susseguirsi di maggioranze di diversi orientamenti il risultato è che da quando ho iniziato io negli anni 60 negli anni 70 abbiamo perso il 50% degli addetti e il 50% del territorio quindi voglio dire meno fanno cioè più fanno e peggio è sarebbe meglio che non facessero lei parlava di questo cortocircuito per cui l'agnello che voi stessi producete poi deve essere macellato d'altrove quindi poi vi costa di più ma perché dove bisogna andare? allora prima c'erano i matatoi pubblici fino alla fine degli anni 90 fino agli anni 2000 ma i matatoi pubblici sono stati chiusi e non è stato pensato a un'alternativa nel senso che ci sono dei matatoi privati che fanno questo lavoro lo fanno per reddito chiaramente il discorso del servizio non è contemplato cioè non si capisce che cosa abbiamo un politico cosa dovrebbero fare i proprietari di queste mille pecore che poi sono circa 200 250 allevatori in provincia di Genova sono tutti dei criminali sono tutti oggettivamente delinquenti noi siamo una categoria di criminali perché non li teniamo gli agnelli per vedere la televisione tutto il giorno noi li consumiamo in famiglia e li consumiamo in famiglia in maniera criminale perché è penale cioè è penale vuoi sapere l'assessore cosa pensa che noi facciamo se noi facciamo vedere la televisione ce le compri più grossi ce le faccia avere più grossi voi li consumate in maniera criminale perché? perché appunto li macellate no se li immagina si immagina che cosa succede pensi alla signora di Statale che ha magari 3000 metri di castagneto e che ha questo uso di per tenere pulito il terreno che fa un servizio alla collettività per mantenere i prati a due pecore gli nascono due agnelli cosa deve fare me lo dice l'assessore cosa deve fare adesso lo sentiamo intanto stanno arrivando i primi messaggi anche da parte del pubblico ne segnaliamo uno c'è subito una considerazione da parte di Nicoletta da San Colombano è un peccato vedere gli orti e i terreni abbandonati dove prima c'erano le stese coltivate oggi non rimane più nulla ma solo un vago ricordo bisogna fare qualcosa dare una svolta investire far fruttare questi beni ci interessa capire se questi argomenti che stiamo svolgendo qui in studio con le detti ai lavori sono sentiti però anche vivi da parte del pubblico che ci sta seguendo a casa Stefano Mai allora sono arrivate precise sollecitazioni io infatti proprio per questo motivo qua ho accolto favorevolmente l'invito a essere qua in studio anziché mandare un tecnico perché sono sono venuto a Capocchino a prendermi anche le uova ma soprattutto a sentire quelle che sono le sollecitazioni provenienti dal territorio bisogna sapere la gente quali problemi abbia non per il portato ma sentirlo proprio in faccia e quindi provare a provare a risolverli io non sono un mago non ho le soluzioni in tasca cerco con buona volontà di provare a immedesimarmi nelle aziende agricole però chiaramente queste qui sono occasioni d'oro in cui mi vengono manifestati tutti quindi sollecitati vengono sollecitati sotto diversi punti di vista e proverò sicuramente a ragionare con i miei tecnici onestamente io anche se diciamo faccio politica che per me è un brutto termine perché ormai quando si parla di politica si tende a generalizzare quindi si parla generalmente di brutta politica io cerco di essere più pratico che politico quindi fare meno parole e provare a fare più atti concreti però sono un uomo di mondo cioè mi sono reso anch'io lavorando svolgendo il mio lavoro poi ne ho fatti veramente tanti quali sono le complicazioni che hanno le aziende ma le aziende a 360 gradi perché se mi dite solamente un'azienda che oggi in Italia riesce a lavorare riesce a produrre io insomma sono disponibile a copiare quel modello in effetti tutti hanno problemi ma il problema è della zootecnia lo conosco sufficientemente bene anche se non nei minimi dettagli perché in qualche modo abbiamo già affrontato in questi mesi diverse problematiche una su tutte quella del latte sapete benissimo quello che è successo che da su questo facciamo un aggiornamento tra poco per non perdere il filo di quello che stava dicendo però diceva conosco la zootecnia conosco determinati problemi sullo specifico appunto questo che viene sollevato per quanto riguarda i mattatori per quanto riguarda la macellazione delle carni allora sulla zootecnia io riconosco che sia uno dei settori più in crisi a livello di mattatori ad esempio ne stiamo creando uno a Imperia proprio perché ci sono queste problematiche quindi attraverso dei fondi ministeriali che abbiamo recuperato ne stiamo realizzando uno potremmo utilizzare la stessa formula in quella vallata lì onestamente io so che ci sono dei mattatori privati non conosco i prezzi a cui a cui macellino quindi non conosco il prezzo del servizio però sono disponibile a parlare con ARA che tra l'altro è l'associazione regionale elevatori che tra l'altro ha anche altri problemi perché poi il taglio dei fondi ha comportato anche riduzione di alcuni servizi ma su questo stiamo già lavorando però devo dire che c'è una buona sintonia con l'ASL proprio perché adesso in assenza di risorse comunque con un taglio di risorse molto importante per la regione Liguria ASL si è dimostrata molto sensibile al problema della zootecnea dei controlli funzionali degli albi genealogici e stiamo ragionando con loro quali sono i metodi per semplificare e per rendere meno complicata la loro vita si poteva fare prima sicuramente sì proviamo a farla adesso si diceva da parte di più fonti che la burocrazia falcidia le attività agricole secondo lei dove si può alleggerire si parlava dei documenti da produrre dei doppioni da fare dei controlli ho sentito molte cose allora sui doppioni sicuramente anzi facciamo un passo indietro si è toccato il discorso dell'informatizzazione di questi sistemi purtroppo l'informatica che dovrebbe risolverci comunque semplificarci la vita si sta dimostrando bloccante ostacolante una su tutti che voglio citare è il problema del PSR che attualmente non riesce a partire a 360 gradi perché non abbiamo ancora a disposizione i programmi informatici programmi che dovrebbe metterci a disposizione AGEA attraverso le sue società che hanno preso in subappalto questo lavoro le faccio una domanda però e poi ritorniamo questa AGEA che se non andiamo errati opera a Roma e sta effettivamente anziché semplificare l'attività delle regioni sta dimostrando su un tappo non può essere scavacata con un'azienda magari sul territorio un pochino più efficiente allora sì guardi io non sono molto informaticamente preparato però abbiamo provato ho fatto impegnare i miei tecnici per verificare se potesse bypassare è stato provato come regione Liguria ad avere un sistema informatico proprio ma era troppo oneroso abbiamo chiesto alla regione Lombardia regione Amica se era possibile utilizzare il loro sistema ma veniva una cifra folle ora stiamo verificando un programma informatico parziale non tutto quanto perché alcuni livelli di questo SIEAN stanno funzionando altri no quindi penso che a breve saremo in grado di valutare il programma informatico di questa regione che non voglio citare prenderne solo una parte quella che riguarda le istruttorie e provare ad attuarle in regione però noi abbiamo fatto di più abbiamo stimolato a livello perché il problema poi a livello nazionale abbiamo provato a stimolare il governo e Agea ma abbiamo siamo stati propositivi non mi interessa la diatriba politica voi siete cattivi io sono bravo non mi interessa mi interessa provare a portare delle risposte concrete alle aziende e quindi abbiamo detto ad Agea mettiamo noi le risorse economiche paghiamo noi le persone che potranno lavorare dentro ad Agea sul SIEAN per la regione Liguria però le vogliamo poter controllare non è che vi diamo i soldi e poi prendete il personale che volete per fare chi sia no noi ci paghiamo i nostri professionisti ad oggi ci hanno dato due persone che stanno lavorando concretamente e in queste ultime due settimane qualche cosa è migliorato ma non di molto credo che a giugno avremo pronto il programma per le istruttorie però l'informatizzazione di questo sistema in realtà dovrebbe semplificarci la vita come dicevo perché diminuisce anche il tasso d'errore però così non è così non è lei ha citato i piani di sviluppo rurale sui quali ci sono molte aspettative da parte degli operatori del settore da parte degli agricoltori che dovrebbero dare slancio dovrebbero dare una boccata di ossigeno lo ha già anticipato in un certo senso in questo intervento ci sono dei ritardi legati a questi intralci anche di carattere informatico sì è un seguirsi di ritardi perché il piano doveva partire nel 2014 siamo riusciti ad arrivare all'approvazione totale a febbraio 2016 quindi siamo partiti in ritardissimo anche se qualche bando l'abbiamo aperto in via provvisoria semplificata già il dicembre 2015 fatto sta che attualmente abbiamo speso pochissimo di questi 313 milioni a disposizione in questo settennato che sarebbero una boccata d'ossigeno per molte aziende dobbiamo lavorare ad esempio per collegarmi alla zootecnia sulle indennità compensative e provare ad adeguarle perché quelle che sono state indicate sul PSR sono ormai vecchie fare zootecnia in Liguria significa andare ad allevare del bestiame in collina dove hai il problema delle infrastrutture viare in più la regione Liguria è una insieme alla Calabria è la ragione a più alto dissesto idrogeologico quindi ogni volta che piove viene giù una strada un prato pascolo e quindi abbiamo questi problemi questi problemi che vanno a incidere chiaramente sulle spese di produzione dei singoli elevatori però questo si ripercuote chiaramente sull'agricoltura tutta 360 gradi quindi sicuramente questo PSR appena riusciremo a farlo partire concretamente perché i bandi ce ne sono molti ne sono già stati avviati 28 alcuni sono già stati chiusi molti altri sono ancora aperti però risorse non riusciamo ancora a derogarle come vorremmo spero che questo c'è un riferimento anche gli altri ospiti che ora richiamiamo in causa intanto come leggenda PSR quindi è il piano di sviluppo rurale si tratta di progetti che vengono finanziati dalla regione Liguria attraverso fondi europei però devono appunto essere presentati i progetti entro determinate scadenze su questo vediamo allora se c'è qualche domanda torniamo da Nicola Rolando sul discorso dei piani di sviluppo rurale volentieri cioè il piano di sviluppo rurale ufficialmente si sono aperti dei bandi con delle contraddizioni allucinanti pensi che sui muri che è stato il primo bando aperto su circa 2800 domande presumibilmente è un finanziamento di 4 milioni di euro se ne potrà finanziare 300 lei pensi che 4 milioni di euro pensate che 4 milioni di euro sembrano tanta roba ma in un territorio come la Liguria sono 40 ettari di muri in tutta la Liguria a 100 euro al metro quadro 40 ettari di muri 300 km di sviluppo della costa all'interno di aziende agricole che per lo più hanno una pendenza media del 50% e quindi hanno tanto terreno quanto muri un 20-30% di rottura significa che praticamente un'azienda di 6 ettari come la mia ha circa vado a fare un ettaro o due ettari di questo sulla Liguria praticamente è una lacrima in più 2-3 anni che non si vedeva un soldo ci si sono buttati tutti a capofitto e da quello che risulta neanche l'istruttore è stata fatta sui giovani si è stata aperta la misura sui giovani circa 200 domande su una possibilità di finanziarne circa la metà e con il rischio che chi ha fatto la domanda decorra i tempi dello suo insediamento e quindi perde i requisiti per poter anche aderire una successiva misura se nel caso che la domanda non gli fosse stata accolta un attimo solo su questo c'era l'assessore Mike che voleva rispondere un paio di precisazioni perché ci sono state delle modifiche ultimamente tanto per i muriti a secco bisogna dire che la misura è consta di 14 milioni per l'intero settennato quindi nel PSR che non ho scritto io ma non devo puntare dito contro nessuno ci sono 14 milioni per tutti i sette anni noi abbiamo aperto primo bando con 4 milioni quando ci siamo resi conto che le domande erano veramente tantissime quando siamo arrivate 2 mila domande abbiamo chiesto a Bruxelles autorizzazioni di implementare il fondo volevamo metterli tutti 14 milioni nel primo bando ma Bruxelles ci ha detto in un bando il primo bando che aprite di 45 giorni non vi consento di metterci tutte le risorse che vi devono servire per i sette anni però ci hanno consentito di metterne otto con quegli otto noi andremo a credo a pagare circa dagli 800 alle 1000 domande dopodiché quindi apriremo un altro bando per finanziarne altre circa 500 quelle che saranno ma poi all'interno del PSR potremmo cercare di recuperare qualche risorsa rimasta sui vari capitoli e riaprire un ulteriore bando io so quanto sia lo dicevo prima quanto sia fragile il territorio e quanto sia anche bello e caratteristico grazie ai murite secco però diciamo purtroppo questa misura non era così capiente invece sui giovani anche doveva avere un'informazione ecco sui giovani un'importante modifica perché era il primo bando i giovani hanno presentato domanda sulla misura 6.1 sono arrivate circa 199 richieste grosso modo siamo sui 5 milioni e 6 di richiesto di euro di richiesta di richiesta il bando era un bando con 2 milioni e mezzo quando ci siamo resi conto di questo quindi a bando chiuso solamente perché insomma nessuno poi i bandi erano pubblici quindi qualcuno poteva sollevare obiezioni prima che si chiudessero quando ci siamo resi conto a bando chiuso che molti giovani sarebbero rimasti fuori abbiamo sentito Bruxelles perché purtroppo dobbiamo sempre dipendere dalla commissione europea abbiamo chiesto di poter implementare quel fondo quindi quel bando la dotazione finanziaria di quel bando per non escludere nessun giovane ce l'hanno consentito cosa strana perché aumentare la disponibilità di un bando già chiuso non era così scontato lo abbiamo fatto cioè ci hanno garantito la possibilità e quindi lo faremo perciò i giovani noi contiamo di non lasciarne fuori nessuno stessa cosa è successa per la 4.1 sugli investimenti 11 milioni cosa è esattamente gli investimenti investimenti che possono in generale le aziende agricole sono state 476 se non erro hanno presentato 33 milioni di euro di domande il nostro bando era da 11 milioni anche qui abbiamo chiesto l'autorizzazione ce l'hanno concessa quindi poi in un momento così delicato in cui ci sono imprese aziende che vogliono investire noi non vogliamo bloccare nessuno l'unione europea ce l'ha consentito metteremo i soldi sufficienti per dare un riscontro a tutti quanti quindi sostanzialmente per i nuovi investimenti e per i giovani ci sarà questo incremento del fondo per i moriti a secco per il momento no queste questioni esatto stiamo per tornare da Levi con la telecamera di Francesco Pecugna entriamo nuovamente dentro la conca degli olivi per sentire su queste ultime questioni se c'è qualche informazione da chiedere Maurizio sì grazie Alberto perché ci sono due domande da rivolgere all'assessore iniziamo con Maria Antonietta Solari proprio sulla questione dei moriti a secco che esempio vuol portare e che domanda fare dunque io ho fatto una domanda dell'alluvione del 2014 mi è stato detto di chiamare geometra geologo e hanno constatato i danni sono venuti di quelli della comunità montana a vedere il danno che c'è stato e dopo aver fatto tutto aver perso tempo tutto quanto soldi non ce ne sono danno di quanto? di 58 mila euro e passa sono venuti io non è che chiediamo dei soldi da metterci via chiediamo di lavorare in sicurezza di lavorare per andare avanti ecco perché sono purtroppo la Liguria è così è un terreno fragile però se non si può non si ha la possibilità di lavorare in un torrente non si ha la possibilità di lavorare in sicurezza perché bisogna chiamare forestale bisogna chiamare provincia bisogna cioè sinceramente ci vengono un po' legate le mani ecco sul muretto a secco che esempio aveva da portare è stato forte Bertani perché mi ha detto guarda la domanda è ferma se vuoi fare c'è la possibilità di fare per i muretti a secco ho fatto la domanda ho chiesto però mi hanno detto se sono tutti in pietra va bene se sono muretti che sotto c'è le pietre sopra c'è la terra non va più bene e allora logicamente mi sto chiedendo che differenza c'è cioè è sempre un muro che è caduto e che io devo costruire d'accordo o in pietra o in terra devo farlo certo certo ci sono altri interventi Maurizio procediamo qua allora farei ancora fare una domanda a Serafino Oneto che diceva è bello poter mettere le mani sui campi aiutare l'agricoltura a riportare le tradizioni ma c'è tanta burocrazia che blocca che domanda vuole fare all'assessore? ma intanto la burocrazia come è già stato detto c'è però ad esempio per me parlo perché Conca degli Olivi è nata per tramandare proprio tutte le cose dei nostri vecchi cioè le antiche tradizioni ed è veramente un peccato in questo momento vedere i terreni abbandonati borghi di pietre che dove una volta vivevano famiglie e mi farebbe piacere provare a rimetterli insieme ma ad esempio io ho dei terreni dove c'è un mulino e lo so che ci sono le possibilità di prendere dei finanziamenti eccetera però non si riesce mai a partire perché ci vuole questo ci vuole quello ci sono mille cose che ci bloccano cioè io sono due anni che ci sto provando e sono al punto di prima perché sono tutti beni che secondo me è un peccato perderli i noccioletti cioè dove tu ci vai la mattina dopo è passato un cinghiale cioè non si può più lavorare ecco Alberto ti consegniamo queste problematiche queste perplessità è significativo l'intervento di Serafino Neto come anche quelli che arrivano dal pubblico di casa fanno comprendere all'assessore Mai che certamente ne aveva già sentore quanto comunque ci sia una volontà un impegno di lavorare per mantenere bene il territorio scrive Massimo sarebbe bello se coloro che si dedicano all'agricoltura fossero in qualche modo aiutati ma non tanto in senso economico quanto quello nella direzione della semplificazione effettivamente questo è un tormentone che sta tornando anche questa sera il grosso inghippo burocratico e poi ci sono fondi europei volti a recupero e sviluppo del territorio io ho terreni stavo valutando se fare qualche cosa in tal senso scrive Lucio in questo senso stiamo già comunque dando informazioni nel corso della trasmissione allora assessore Mai abbiamo sentito questi ultimi interventi da lei che cosa si può rispondere si si può rispondere che uno dei primi interventi che intendiamo fare per sburocratizzare così se così possiamo dire è consentire il recupero dei terreni abbandonati purtroppo ci pervengo mi sono pervenute in passato molte segnalazioni da parte dei comuni che non riescono a rilasciare le autorizzazioni necessarie allora con il collega Scaiola che si occupa di urbanistica stiamo confezionando un provvedimento per consentire quindi ai comuni di rilasciare l'autorizzazione al recupero di quei terreni abbandonati ormai da 5-10 anni che teoricamente sarebbero diventati bosco tutti quei terreni che una volta sono stati utilizzati ai fini produttivi questo io penso che possa essere un modo anche per andare incontro alle esigenze di chi si vuole espandere e di chi vuole insediarsi come diciamo come un giovane ad esempio che non ha terreno oppure che ha un terreno dei nonni abbandonato beh credo che questa sia una bella risposta si muorete a secco o solo in pietra diceva la signora? allora muorete a secco in realtà il finanziamento prevede di poter ricostruire quelli che sono caduti se al posto del muretto c'è terra perché le pietre si sono andate perse non vedo perché non si possa non si possa recuperare farò un approfondimento anzi se la signora mi volesse indicare chi è il tecnico magari può farlo mettere in contatto direttamente con me con i miei uffici cerchiamo di capire qual è la problematica e risolverla nella prossima nel prossimo bando nella prossima pubblicazione del bando che faremo io come ho detto so benissimo cosa sono i muorete a secco provengono da un territorio che è pieno di muorete a secco nel ponente Ligure quindi vedo che da lei vi continuano a gesticolare forse volete intervenire tenete presente a lei che siete sempre inquadrati quindi siete sempre in onda allora c'era qualcuno che voleva subito intervenire brevemente Maurizio sì allora un flash con Valerio Sanguinetti che qualcosa da dire su questa questione aveva una domanda ma in realtà il mio discorso per quel che riguarda mantenere in ordine la sicurezza del territorio è qualcosa che mi sta incredibilmente a cuore ma ho paura che sia un discorso lungo e complesso in realtà a me piacerebbe moltissimo e credo che ci siano delle formule che possono essere semplici per contemperare un interesse pubblico che è quello di avere il territorio in ordine che è anche un interesse delle altre attività economiche perché pensiamo quanto il turismo può beneficiare ad esempio dall'avere un bel contesto agricolo coltivato cioè pensiamo che ne so alla Val d'Orcia che beneficia di tutta l'agricoltura che c'è intorno cioè lì c'è c'è siano le bellezze naturali e la parte antropica che ha fatto un bel lavoro da noi come? No, rientriamo un attimo in studio allora per vedere quali sono gli altri aspetti della trasmissione perché dicevamo dobbiamo parlare dell'agricoltura ma ci sono anche tutta una serie di normative che sono entrate in vigore da circa due anni e che devono essere adempiute su indicazione dell'Unione Europea che possono essere però anche difficoltose e dispendiose per gli agricoltori stessi e allora facciamo il punto anche con gli altri ospiti incominciando da Paolo Corsiglia vicepresidente della Col diretti di Genova quali sono effettivamente gli adempimenti più impegnativi secondo lei? Guardi l'ultimo che è nato che bisogna adempiere è quello dell'abilitazione il patentino dei trattori questo patentino dei trattori è volgarmente chiamato ma è un'abilitazione professionale è obbligatoria per tutte le aziende che hanno partita da Eva quindi l'imprenditore dei professionali non per il singolo privato perché dobbiamo fare un po' di distinzione cioè tante persone pensano che deve essere fatto da tutti no soltanto dalle aziende agricole e dai loro collaboratori quindi coadiuvanti o dipendenti questo è il primo aspetto quindi costoro sono tenuti a prendere questo patentino certo questa abilitazione qua i privati anche se esercitano quindi agricoltura a livello di azienda se non hanno partita Eva agricola non è tenuto ad avere questa abilitazione qua i privati non devono adempere doveva scadere proprio oggi questa questa normativa in quanto in quanto ci sono varie categorie e quindi ci sono varie step evolutivi cioè sono aziende che devono o addetti che devono compiere soltanto 4 ore o addetti che devono compiere 8 ore questo dobbiamo fare un passo indietro dobbiamo dire che tutte le aziende che tutte le aziende in start up entro dicembre 2017 devono avere questa abilitazione invece le aziende già aperte quindi più vecchie hanno una tempistica più lunga quindi il 2019 2019 quindi questo è il discorso del patentino per il trattore esatto poi andiamo avanti con Giovanni Battista Raffo perché la cooperativa agricola Lavagnina sta effettuando dei corsi che sono volti a un altro tipo di patentino che bisogna prendere quello per l'uso dei fitofarmaci in agricoltura in realtà è già da diversi anni che va avanti questa attività di formazione però in quest'ultimo periodo c'è stato anche un incremento delle domande com'è allora la situazione Raffo sì lì si tratta di quello che noi chiamiamo patentino in effetti è un'abilitazione all'uso e all'acquisto e all'uso dei fitofarmaci è un patentino che si consegue superando un corso e superando il relativo esame è successo questo che il patentino esiste da sempre in agricoltura però riguardava finora soltanto piccole cioè poche poche una piccola parte di prodotti da un paio d'anni a questa parte invece si è voluto estendere l'abilitazione per l'acquisto a tutti i prodotti che riguardanti i fitofarmaci diciamo facciamo qualche esempio magari per far capire a quali prodotti si fa soprattutto riferimento sì i prodotti che normalmente si usano in agricoltura vada per il diserbante vada per i prodotti insetticidi vada per i solfati per i prodotti fungicidi per tutti quei prodotti che anche chi tiene un piccolo orto per uso familiare per uso personale usa normalmente direi anche gli anticritogamici anche la moscolearia tutti i prodotti che vengono utilizzati per la coltivazione esatto tutti questi prodotti sì e chi è tenuto ad avere chiamiamolo patentino per semplicità e per chiarezza chi è tenuto ad averlo beh lo tiene chi poi userà questi prodotti perché è il patentino che abilita all'acquisto del prodotto ma soprattutto abilita all'uso del prodotto perché viene istruita la persona l'operatore a utilizzare all'utilizzo del prodotto e dei meccanismi dei macchinari che concernono l'uso di questo prodotto questo lei diceva anche per quanto riguarda i privati quindi anche per l'orto di casa per intenderci sì assolutamente qui non si fa più distinzione fra il prodotto industriale l'orto familiare eccetera si tratta di prodotti in uso finora in vendita nei principali cooperative o negozi particolari diciamo che vendevano questi prodotti senza il patentino da due anni a questa parte tutti per tutti questi prodotti è necessario avere questo patentino è per quello che è aumentata la richiesta di patentino che prima invece era rivolta solo a quegli agricoltori che avevano grandi superfici e quindi necessità di quei prodotti specifici particolari e andavano a classi un tempo è inutile che io adesso mi dilunghi in particolari ma si faceva facciamo un esempio supponiamo che ci sia una famiglia che è dedita alla coltivazione allora nell'ambito della famiglia è sufficiente che uno solo abbia questo patentino per andare ad acquistare questi farmaci in teoria è sufficiente che uno solo ce l'abbia dovrebbe essere che quella persona acquista e quella persona usa però a rigore di regola perché se no si può incorrere in qualche sanzione e direi di sì allora andiamo a conoscere qualche aspetto più specifico con l'agronomo Vincenzo Territo la gente obietta sta arrivando anche qualche domanda in questo momento da casa noi abbiamo sempre fatto coltivazione abbiamo sempre usato questi prodotti perché adesso dobbiamo andare a conoscere tutti gli aspetti scientifici nel dettaglio di prodotti che comunque sappiamo già usare che cosa possiamo rispondere sono utili questi corsi oppure è soltanto per adempiere alla richiesta di legge ma no non è solamente una questione di richiesta di legge è perché fondamentalmente infatti io vorrei spezzare come si dice una lancia a favore di questi corsi che si stanno tenendo perché effettivamente siccome è cambiata la normativa ma soprattutto le ricerche lo studio di questi ultimi 30 anni ci hanno fatto capire che non è tanto la questione della rischiosità o della tossicità di questi prodotti solamente per alcuni prodotti quelli che una volta venivano considerati con una tossicità acuta si è potuto capire e lo dimostrano le malattie che negli ultimi 30 anni sono continuamente aumentati che praticamente la cosa più importante non è tanto la tossicità acuta di questi prodotti ma la tossicità cronica per cui si è visto che non solamente alcuni non solo alcuni prodotti presentavano questi aspetti ma anche i prodotti che da sempre sono stati considerati a basso impatto sia ambientale che da un punto di vista tossicologico presentavano degli aspetti di cronicità per cui oggi come oggi questi corsi sono più che un'imposizione una formazione far sì che le persone che vengono a contatto con questi prodotti possono conoscere e sapere come questi prodotti possono se utilizzati in un modo o in un altro modo possono essere dannosi per se stessi la propria famiglia e per i consumatori e la normativa non solo ha imposto quindi in maniera così pesante ha imposto la formazione in modo tale che queste persone che manipolano e utilizzano questi prodotti possono essere cosci di quello che loro manipolano ma soprattutto ha cambiato anche la norma comunitaria e quindi la legislazione fitosanitaria nazionale anche la figura del venditore il venditore prima poteva essere una persona qualsiasi che aveva determinati requisiti faceva una piccola formazione attraverso un piccolo esamino di abilitazione e poteva vendere quello che voleva adesso la normativa ha imposto che questi venditori abbiano un titolo di studio diploma o lauree attinente le materie agrarie e questo mi sembra che sia un gran passo avanti perché come mi piace fare da sempre un certo tipo di comparazione cioè quando noi andiamo per i farmaci per la nostra salute andiamo dal farmacista e abbiamo una prescrizione fatta da un medico che si assume determinate responsabilità e siccome i prodotti fitosanitari possono teoricamente essere ma anche praticamente possono essere dannosi non solo a se stessi per chi li utilizza ma anche soprattutto per i consumatori è bene che si prenda coscienza di questa pericolosità ecco una cosa un'informazione flash agronomo qual è il termine di legge previsto cioè entro quando tutti i coltivatori devono avere questo patentino allora la data ormai è scaduta da parecchio tempo in quanto è da novembre del 2015 che è obbligatorio questo tipo di abilitazione per tutti quelli che fanno agricoltura tutti quelli che acquistano e utilizzano prodotti fitosanitari naturalmente esiste una piccola ma molto piccola deroga per i prodotti non professionali prodotti non professionali che ancora il ministero deve produrre un elenco dei prodotti non professionali ma che comunque rimane una questione teorica perché il prodotto non professionale costa costa parecchio e quindi come io sostengo lo si può semplicemente sopportare se uno ha due piantine di geranio sul poggiolo ma se uno deve fare un minimo di agricoltura bisogna che si che utilizzi prodotti professionali quindi tutto questo indica il fatto che comunque non esistono prodotti sicuri non nocivi per cui uno va a comprare insomma come i prodotti da banco della farmacia normale va a comprare sicuro che può utilizzare questi prodotti senza complicazioni e senza tutte queste informazioni precise no al momento anche i prodotti che comunemente vengono utilizzati scusate in agricoltura biologica la maggior parte di questi devono essere acquistati tramite scusate si tramite questo sistema intanto andiamo avanti stanno arrivando ancora molte domande da parte del pubblico però a proposito sempre di questi di questi patentini che devono essere presi tornerei da Paolo Corsiglia ce n'è un altro che interessa molti molti ascoltatori quello per la motosega può fare sorridere ma in realtà non è così semplice il discorso allora la questione del patentio della motosega è una questione più inerente alla legge 81 del 2008 che è dispositivi per protezione individuale praticamente viene l'abilitazione deve essere fatta dalle aziende agricole dalle aziende agricole che hanno dipendenti è una formazione che può fare il datore di lavoro o meglio una persona preposta al rilascio di queste abilitazioni però soltanto per le aziende agricole per i dipendenti delle aziende agricole non per i titolari non per chi ha un bosco un orto privato no queste persone qua ad oggi non hanno bisogno di questa abilitazione volevo rilasciarmi un attimo sulla questione dei fitofarmaci che è sicuramente molto importante perché tante persone utilizzano utilizzano il più semplice e volgare verde rame però tanta gente non fa caso ai tempi di carenza e queste abilitazioni qua hanno fatto sì che tante persone sappiano o vedano quello che devono fare cioè devono fare una determinata tempistica per poter raccogliere il prodotto mi spiace a dirlo tante persone danno il verde rame che sembra che è il prodotto più utilizzato in agricoltura dal pomodoro a qualsiasi cosa nell'orto magari stanno un giorno e poi vanno a raccogliere frutti e questo è il problema che adesso questa normativa ha portato agli albori quindi dobbiamo capire che non è una restrizione per l'agricoltore ecco allora faccio una domanda anche perché per esempio leggiamo un messaggio volante l'ultimo che è arrivato poi torno a quelli precedenti a proposito di semplificazione gli insetticidi i solfati e tutti i prodotti non estremamente pericolosi si sono sempre usati e ora ci vuole pure il patentino e l'iter che ne consegue va bene il patentino per i diserbanti ma pure per i solfati mi sembra esagerato ma no dicevo poi l'agronomo darà più lui sicuramente darà nozioni maggiori ma è importante sono sempre usati però a volte tante persone non vedono le carenze e questo è la cosa importante ma questo è chiaro la mia domanda voleva essere ulteriore cioè effettivamente comunque una buona formazione può essere utile per tanti aspetti che possono essere legati sia intanto alla sicurezza poi comunque all'ambiente poi portare avanti l'agricoltura in un certo modo sano però a quale prezzo per gli agricoltori perché il discorso è questo costano tutti questi costano sicuramente del tempo e probabilmente anche dei soldi questi corsi per gli agricoltori abbiamo fatto questi ultimi esempi abbiamo intitolato la trasmissione patentino d'agricoltore come dire quasi quasi si deve proprio avere il patentino per poter fare l'agricoltore lei come col diretti avrà sicuramente monitorato la situazione e avrà anche colto delle situazioni di disagio quanto può costare a un agricoltore adeguarsi a tutto questo i patentini guardi per i fitofarmaci come associazioni di categoria le posso dire noi facciamo pagare 60 euro a persona e questa è un'abilitazione che ad oggi è indispensabile come diceva l'agronomo per poter acquistare per poter acquistare questi solfati diservanti e quant'altro però è la normativa che l'ompone e quindi bisogna tenersi a queste normative qua dispiace capisco che è un dispendio economico di energie e quant'altro però la formazione su queste partite qua io poi ne ho sempre ho visto anche nella mia azienda stiamo valutando e già da qualche anno lavoriamo sull'agricoltura biologica con insetti antagonisti per evitare di utilizzare tanti inseticidi tanti fitofarmaci che possono essere dannose sia alla mia persona perché faccio i trattamenti io e sia le persone che mi stanno vicino chiaramente però se questi corsi di formazione fossero gratuiti per esempio già si verrebbe incontro a chi deve adeguarsi per esempio diamo un'informazione Giovanni Battista Raffo quanto costa il corso per imparare l'uso l'uso dei fitofarmaci sì siamo sull'ordine di grandezza che ha detto Corsiglia siamo su quell'ordine di grandezza lì tenuto conto che a ogni corsista vengono chieste due deve dare due marche da bollo che sono obbligate per fare la domanda per accedere a questo per fare questo corso e poi c'è un costo per la gestione del corso stesso ma siamo sull'ordine dei 50 60 70 euro a persona e l'impegno di frequentazione qual è? il corso per il conseguimento del patentino ex novo sono 20 ore suddivise in 5 sedute da 4 ore ciascuna e più c'è la seduta finale che è l'esame chi invece fa il rinnovo perché c'è anche questa possibilità di gente che ha questo tesserino non abbiamo detto che ha una durata una validità di 5 anni scaduto il quale bisogna fare il rinnovo chi deve rinnovare deve soltanto fare un corso di 12 ore e non c'è neanche l'obbligo dell'esame finale sì mai velocemente vorrei fare un intervento dicevo che la regione Liguria è questo siccome è quello dei fitosanitari è uno dei primi problemi che mi è capitato il 28 novembre 2015 ce l'ho scolpita ancora questa data la regione Liguria dicevo è una delle poche regioni che ha approvato il regolamento per i crediti formativi quindi per chi deve rinnovare è sufficiente che segua durante l'anno dei corsi dei seminari non ha più bisogno di fare il corso di aggiornamento sostanzialmente quindi fa dei punteggi grazie per questa delucidazione arrivano delle domande da casa avrei bisogno di risposte telegrafiche incominciando dall'agronomo scrive da un nostro ascoltatore da San Colombano nelle nostre campagne di San Colombano c'è la brutta abitudine di bruciare la plastica forse qualcuno non sa che questa si trasforma in diossina depositandosi sul territorio e anche sulla frutta e la verdura che cosa ne pensate? Territo un commento? no volevo intanto che questa qua naturalmente è una cosa nella maniera più assoluta da evitare cioè non ha senso bruciare la plastica tutti quanti sappiamo che si ha un'emissione di diossina quindi è una cosa negativa al massimo invece volevo rispondere alla richiesta precedente e quindi anche a quella sua che oggi possiamo dire con la conoscenza da parte della sperimentazione e della ricerca che non esistono prodotti integri prodotti che ci possono garantire e assicurare la non nocività sono tutti più o meno nocivi anzi nella maggior parte dei casi sono stati eliminati circa il 70-80% dei principi attivi che erano in vigore negli ultimi 30 anni perché ci si è accorti ci si è accorti con prove di laboratorio che erano proprio quelli che determinavano il maggior numero di malattie e mi riferisco a problemi di cancerogenesi di mutagenesi non malattie da poco conto ma malattie per gli uomini che sono legate alla qualità dell'aria oppure proprio al prodotto che si mangia non è che sia stato messo in relazione però si è visto che naturalmente l'incremento di determinate malattie si è verificato in concomitanza di situazioni di lavoro come in agricoltura per esempio in ambiente protetti oppure anche in pienaria dove c'era un consumo esagerato di prodotti fitosanitari ancora devo interrompere perché abbiamo altre domande questa direi per l'assessore Mai è molto sentito evidentemente il tema dei moretti a secco ci scrivono questo la Liguria è un territorio artificiale costruito con moretti a secco e fasce tramandati da generazioni contadine per poter continuare su questa strada bisognerebbe bloccare l'invasione dei cinghiari e avere assessorati che abbiano una grande conoscenza dell'agricoltura sui cinghiari abbiamo già fatto trasmissioni in anni passati quando lei non era ancora assessore comunque effettivamente anche questo è un problema che continua a rodere i nostri agricoltori sì sempre più direi che lo scorso anno abbiamo approvato una serie di provvedimenti per eliminare il problema penso come non mai uno del alcuni ne posso citare alcuni diciamo se c'è qualche informazione adesso per chi deve affrontare purtroppo non sono solamente cinghiali sono anche i daini e i caprioli questi animali salvatici stanno distruggendo il nostro territorio in alcuni casi riusciamo a contenerli in altri no vedi ad esempio Genova abbiamo avuto una diatriba con il comune che è durata dei mesi forse ora siamo riusciti a risolvere però è un grande problema cercheremo di fare insieme all'associazione di categoria provinciali delle recinzioni comprensoriali per provare a proteggere quelle coltivazioni che ci sono ancora sul territorio che dobbiamo assolutamente preservare una domanda per Corsiglia anche qui se possibile una risposta immediata per un'azienda che opera da circa 20 anni quando sarà la scadenza del patentino per il trattore ed è obbligatorio oppure per un'azienda che si muove esclusivamente nei propri poderi sì sì l'abilitazione è necessaria per tutte quelle persone che utilizzano trattori sia gommati che cingolati la scadenza è al 2019 in quanto le persone che hanno due anni di abilitazione cioè che possono dimostrare e certificare che hanno utilizzato per due anni queste macchine dovranno fare quindi un corso di quattro ore e per le altre dovranno fare un corso di quattro ore più mi pare altre quattro di prove pratiche quindi sia teorico che pratico grazie adesso andiamo a Levi per un ultimo collegamento Maurizio c'è ancora qualche argomento in sospeso per i tuoi ospiti sì grazie Alberto così chiudiamo il giro del collegamento con Luigi Orani proprio sul tema dei patentini perché qui si diceva è importante averle è importante la formazione però come dovrebbero essere intanto credo che almeno dovrebbero essere gratuiti perché non credo che si tratti né per la regione né per altri enti un impegno stratosferico poi notavo anche un'altra cosa sono importanti anche le sostanze che si usano cioè un patentino che ce ne sia di due livelli ha capito perché un conto è usare del dimetovato un conto è usare del solfato di rame ci siamo quindi chi ha degli oliveti che deve usare del dimetovato così del genere è chiaro che è una sostanza pesante e quindi deve essere ben conscio di ciò che fa chi dà un po' di solfato alle pomodori ci vuole una formazione perché i tempi le cadenze sono importanti diciamo le sostanze chimiche sono delettere e fanno male quindi se gratuiti sarebbe meglio andrebbe incidere meglio poi anche un'altra cosa anche perché stanno proliferando tutti questi patentini per la motosega per questo per quell'altro a uno che da 40 anni che taglia boschi gli andiamo a fare a prendere patentini per la motosega in conclusione il consigliere Canepa il comune un'amministrazione può fare qualcosa ad esempio nel caso di lei ma intanto per quanto riguarda il patentino dei fitofarmaci noi abbiamo dato parte del patrocini abbiamo messo anche a disposizione gratuitamente una sala per un corso appunto di fitofarmaci e se ci sarà bisogno di ulteriori corsi sia per i patentini o per le abilitazioni dei trattori o motoseghe sicuramente noi la nostra parte la facciamo io chiedo che però devono essere fatti questi corsi possibilmente che vengono accorpati e ridurre al massimo le spese poi noi mettiamo sicuramente a disposizione la sala gratuitamente bene grazie dalla conca degli ulivi a te Alberto allora in conclusione vorrei chiedere all'assessore Mai un aggiornamento che era rimasto in sospeso all'inizio della trasmissione in merito all'acquisto del latte perché effettivamente proprio l'anno scorso ci siamo occupati con una trasmissione del problema che aveva messo in difficoltà alcune aziende del nostro territorio si era trovata una soluzione tampone ricorderete la Parma la Lactalis aveva deciso di non comprare più era scelto il contratto e di non servirsi più del latte delle valli genovesi adesso in prospettiva cosa sta per succedere? sì purtroppo ricordo bene quel primo marzo giorno in cui gli elevatori hanno sversato il latte perché non avevano più l'acquirente di lì è nato si è creato un percorso chiaramente poi la notizia si è diffusa in tutta Italia perché è stata una cosa gravissima quella che è chieduta e quindi abbiamo trovato diverse persone che si sono proposte diverse aziende si sono proposte per dare una mano al settore lattiero caseario della regione Liguria più che altro ai produttori abbiamo trovato un caseificio di Torino che si è reso disponibile ad accogliere tutto il latte per produrre dei formaggi sostanzialmente questo accordo si è concretizzato intorno a fine marzo ed è stato formalizzato e ufficializzato un contratto per tre anni con un prezzo minimo che ricordo fosse intorno ai 39 centesimi al litro di latte però rivedibile ogni tre mesi in aumento quell'accordo però non è stato onorato dalla cooperativa quindi gli allevatori sono stati lasciati nuovamente a piedi perciò abbiamo ripreso il discorso io e il insomma il caseificio trovando anche chi lo avrebbe distribuito abbiamo trovato anche chi genovese si occupa di grande distribuzione e abbiamo cercato di creare una fiera quindi l'obiettivo e la situazione attuale è questa raccogliere tutto il latte delle valli portarlo a Masone a Masone viene il caseificio pugliese in questo caso a ritirare il latte pugliese di nome non di fatto si lo caseifica l'idea sarebbe quella di produrre quattro formaggi delle vallate quindi esclusivamente con latte ligure specifichiamolo e poi riportarlo giù in Liguria e farlo distribuire dalla Sogegros credo che insomma sia la prospettiva migliore creare una filiera locale ma si è già a questo punto o ci state lavorando ancora in fieri diciamo che si è a questo punto è già stato preparato tutto il packaging io non ho ancora assaggiato i formaggi spero di poterlo fare presto però il latte lo stanno già recuperando quello che posso dire però è questo anche per fare un po' di sintesi conosco bene i problemi purtroppo purtroppo i problemi che sta affrontando l'agricoltura ma un po' tutti quanti i settori di cui mi occupo quando si muove più carta della terra significa che c'è un problema noi proviamo proviamo però la bacchetta magica non ce l'abbiamo a semplificare la vita delle aziende ma non è così facile perché tutto deriva da normative europee poi trasformate in decreti ministeriali o decreti legge si ce l'ha spiegato anche prima delle trattative da fare comunque l'impegno rimane si anzi io lancio questa proposta a tutti gli intervenuti questa sera se hanno visto che ci sono molti tecnici se hanno delle proposte concrete io sono disponibile a rivederle non è mio interesse far chiudere le aziende io voglio farle vivere voglio far recuperare il territorio andato abbandonato però per fare questo bisogna anche poter dare poter vendere i prodotti che si che si producono in regione Liguria al giusto prezzo non possiamo andare sui mercati e provare a diciamo concorrere a livello di prezzo noi abbiamo una qualità un'eccellenza altissima e quell'eccellenza deve essere venduta al prezzo giusto però bisogna anche comunicarlo bene bisogna comunicarlo bene siamo in chiusura salutiamo allora i nostri ospiti a Leivi con Maurizio Garreffa e con Fabrizio e con Francesco Pecugna sì Alberto un saluto qui dalla Conca degli Ulivi che ci ha ospitato e che ringraziamo ringraziamo anche i rappresentanti delle aziende locali qui del territorio a te Alberto e noi ringraziamo gli ospiti che sono stati nei nostri studi quindi Stefano Mai e poi Paolo Corsilla Vincenzo Territo Giovanni Battista Raffo e Nicola Rolando ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno seguito da casa l'appuntamento è per lunedì prossimo alle ore 21 a tutti buonanotte e buona settimana a tutti Grazie a tutti.